Salve a tutti, sono stata chiamata anche a sostegno di Nicoletta, anche per dimostrare che noi donne non siamo soltanto un oggetto, ma abbiamo comunque un cervello pensante e quindi riusciamo a capire anche noi il signoraggio. Allora, appunto, cos'è LoSai? LoSai è un gruppo che nasce circa un anno e mezzo fa, nasce in rete e in rete continua ad esistere. Noi cosa facciamo? Semplicemente cerchiamo di capire com'è che va veramente il mondo, perché abbiamo notato che ci sono delle cose che non vanno, che non quadrano. E se questo, per esempio, faccio un esempio, si parla di debito pubblico, un debito che cresce ogni anno, allora ci siamo chiesti come mai questo debito aumenta solamente? Che cos'è questo debito? Chi è il creditore di questo debito? Da dove nasce? E quindi, semplicemente, ci siamo riuniti, ci siamo messi a leggere, leggere libri come, per esempio, i libri di Giacinta Uriti, ma anche i libri di Saba, per esempio, Bantes, anche bellissimo. E niente, cerchiamo di divulgare le nostre scoperte, chiamiamole così, e soprattutto cerchiamo di invogliare le persone ad informarsi e a cercare, non solo in rete, ma anche sui libri, come stanno veramente le cose. Ancora, semplicemente questo, perché non avevo preparato nulla e sto improvvisando un po', non voglio tenere, insomma, un discorso troppo lungo e noioso, che magari siete stanchi. Quindi passo la parola. Applausi Applausi Applausi